Allora, parliamo di Crawl, intrappolati di Alexandre Aja. Tra meno di un'ora saremo sott'acqua! La Florida ha diramato un'allerta a uragano di quinta categoria. Prendete le vostre famiglie, i vostri cari, e andatevene. Non potremo soccorrervi. Cioè, allora le tasse per che cazzo le paghi? Dico io. Eh, questi sono sempre buoni a prendere. Porca puttana. E' occupato! La gamba... Il coccodrillo ha bussato, seriamente. Eh, ve lo devo farli sentire. E' occupato! Venga, il coccodrillo educato non si era mai visto. Cioè, gli dà pure del figlio di puttana, capito? Il film è prodotto da Sam Raimi, quel buon uomo di Sam Raimi. Grazie, Giorgio! Che ha deciso di fare il produttore di film. Alcuni gli vengono bene. Questo, insomma, è abbastanza buono come film. Poi, ora ha deciso pure di fare il regista di nuovo. E ha fatto quella roba immonda che è tutto strange, il multiverso di Stamingo. Ovviamente Sam Raimi, per chi non lo sapesse, è il regista di film epici come La Casa, L'Armata delle Tenebre. Il film è diretto da Alexandre Asia, regista delle Colline hanno gli occhi, il remake, Piranha 3D. E' un film abbastanza recente che io ho messo anche tra i miei consigli, che è Oxygen. Ciao Rullo Quieto, benvenuto sul canale. La cosa che mi fa sempre un po' di effetto è scoprire poi, perché in questi film escono tutte le scritte, ci sono le scritte in edizione, scoprire che in Florida ci sono un milione e mezzo di alligatori. di alligatori, un milione e mezzo di alligatori. E allora io mi chiedo, ma perché vivi in Florida? Sei scemo? Ovviamente, poi andate a guardare il numero di attacchi, il numero di morti, è bassissimo rispetto alla quantità di alligatori che ci sono. Perché? Perché fondamentalmente gli alligatori si fanno i cazzi loro. Non è che gliene fotte un cazzo, non è che sono tutti come nei film come questo qua. A tal proposito, prima di iniziare a parlare a dentro del film, vi faccio vedere l'edizione che mi ha mandato Play On, ex Coach Media, un'edizione non limitata ma fighissima, in 4K, non mette a fuoco, grazie, molto gentile. Non mette a fuoco, vediamo se, aumentando la luce, dentro c'è una montagna di roba, tra cui un dente di coccodrillo, di alligatore. Allora, dentro trovate, vabbè, questa fantastica grafica, libretto, eccetera. Ma comunque, un disco è il 4K, un disco è il Blu-ray. Prima cosa, prima che mi dimentichi, nell'edizione 4K non c'è l'italiano, sapevatelo. Decidete voi come giudicare questa scelta, io non so come mai. Mi ha stupito, effettivamente. Però non c'è l'italiano. Nell'edizione Blu-ray, invece, c'è. Comunque, entrambi i dischi hanno il menu con la possibilità di averlo in italiano e gli extra con i sottotitoli in italiano. E troviamo il poster, che poi io da buon collezionista non tolgo dall'edizione, lo lascio dentro. Il poster di Crawl. Che buono il profumo dei poster, me l'avrò dimenticato. Una targa, tipo cartello pericolo, piuttosto, insomma, dura, di plastica dura. Attenzione, coccodrilloni. Una piccola istruzione su come essere digeriti da un coccodrillo, come difendersi da un coccodrillo. E poi, vabbè, insomma, è utile. È utile sapere come... Una serie di cartoline, ovviamente sono tutte ribaltate dall'altra parte, la legge di Marti. Cartoline con le scene del film, ma anche, vedo qua, il backstage. Non so con che criterio sono state scelte le cose, però... Qua c'è un addetto agli effetti speciali. E questo è quanto non riuscirò mai a mettere via per quanto riguarda l'unboxing dell'edizione. Mi scriveva Hiroshima, il direttore della fotografia di questo film, cioè di Creole, ha fatto anche Resident Evil, Welcome to Recon City. Ma soprattutto, tra i vari horror che ha fatto, giuro è vero, i videoclip di Rovazzi, con la Bertè e J-Ax. È vero? No, vabbè, ci credo. Nel senso, anche Spike Lee ha diretto un video di Eros Ramazzotti. Io, dopo che ho visto quella cosa lì, ho detto, vabbè, ok, col denaro puoi comprare tutto quello che vuoi. Cioè, se voi volete, per esempio, comprarmi, fatelo. E io farò tutto ciò che volete. Mi sembra che Carlo abbia scritto che sembra un disaster movie, no? In effetti, io trovo che sia anche affascinante, in realtà. Questo contesto dell'uragano, che poi fa appunto innalzare le acque dei fiumi, eccetera, eccetera, e quindi si allaga tutto, diventerà un casino. E questi piccoli centri abitati della Florida, cioè il classico paesello, diventa praticamente una piscina. Serve, chiaramente, è fondamentale. E rimarcare tanto questa cosa, come se fosse un disaster movie. In realtà non serve a farlo sembrare un disaster movie. Serve per, in qualche modo, convincere il pubblico che la quantità di acqua che noi vedremo, i casini che vedremo, inondazioni, eccetera, siano giustificabili, no? Cioè, siano giustificati. E quindi partiamo da una visione della Terra con l'uragano che si forma, e da lì capiamo che siamo veramente di fronte a uno di quegli episodi di cui poi, alla fine, non l'uragano, così che non ne parla quasi nessuno, e vabbè, spacca due cose. No, parliamo di quegli episodi dove poi accendici il telegiornale e ne parlano tutti, perché è disastro da tutte le parti. Quindi è lì che a quello serve, no? A creare questo stage per la nostra scena dell'orrore, in cui però non ci saranno solo, e questo forse è una cosa intelligente del film, non ci saranno solo gli alligatori a rendere orrore e problematiche la situazione. Ci saranno anche altre cose che vedremo adesso. La storia è veramente scarna, veramente povera, però quantomeno c'è un piccolo approfondimento su alcuni personaggi, principalmente sulla protagonista. Racconta la storia di questa ragazza, che tra l'altro ha anche una semi-carriera da nuotatrice, e questo è importante per il film. Ogni cosa che viene messa nel film poi in realtà ha una funzionalità particolare e serve a rendere credibile tutto. Cioè è credibile la sua capacità comunque di muoversi nell'acqua in una situazione così difficile. Per cui proprio perché lei è un atleta, in una situazione così forse è l'unica che potrebbe farcela a, non dico seminare un alligatore, ma quantomeno, insomma, dargli del filo da torcere, ecco. Quindi era fondamentale che ci fosse questa cosa. L'escamotage è che lei non sente più, che è un po' banale, lei non sente più il padre, lo va a cercare e scopre poi che il padre è imprigionato in casa e quindi rimarranno entrambi imprigionati in casa e forse anche da questo intrappolati, cioè intrappolati dall'uragano, intrappolati nella casa, per ragioni che scoprirete vedendo il film, e intrappolati anche perché proprio per via dell'uragano si riempie il luogo in cui loro vivono, questo paese e questa casa, si riempirà di alligatori perché verranno trasportati dal corrente, quindi secondo me un aspetto bello di questo film è proprio come ogni elemento è stato messo per renderlo credibile, cioè possibile, e alla fine è un film credibile da questo punto di vista, esclusi alcuni piccoli eventi che però sono necessari all'entertainment, servono per rendere divertente, piacevole quello che stiamo vedendo, anche perché poi al di là di questo il film non racconta un cazzo, è un film assolutamente irrilevante per la società, non so come dire, non ha dentro nessun tipo di tematica sociale, politica e anche emotiva, c'è giusto un approfondimento su un rapporto familiare tra lei e il padre, ma è poca roba insomma, serve giusto a farceli conoscere un po' meglio. Quindi secondo me è affascinante l'ambientazione apocalittica, ma poi alla fine non è una vera apocalisse, cioè è un evento naturale che accade, quindi non rientra nel disaster movie, perché il disaster movie dovrebbe comunque trattare un evento un po' più epico, qualcosa che ci si augura non accada mai. Allora, al di là del fatto che io questo film non l'ho apprezzato tantissimo, mi era piaciucchiato perché è un film estremamente divertente e dinamico, ma appunto se siete alla ricerca di contenuti non è che faccia per voi. Se invece siete alla ricerca di qualcosa di estremamente leggero proprio dal punto di vista delle riflessioni, ma ben girato e molto adrenalinico, effettivamente questo è un film dove succedono, accadono tante cose fatte bene, tra cui appunto ci saranno non solo gli alligatori a rendere pericoloso il luogo, ma anche le inondazioni e insieme appunto alla possibilità di morire mangiati dagli alligatori ci sarà la possibilità in alcuni casi di morire affogati, di finire in luoghi che vengono sommersi dall'acqua, di venire schiacciati, colpiti da oggetti che vengono spinti con grande violenza dalla corrente e quindi diciamo che il regista e lo sceneggiatore sono divertiti comunque a rendere tutto questo ambiente un ambiente estremamente pericoloso e ricco di scene, atti, situazioni che riempiono un po' tutta la storia che poi non c'è in realtà. È un lungo viaggio alla ricerca della salvezza fondamentalmente. L'aspetto estremamente bello di questo film che è difficile trovare di solito nel cinema è la realizzazione della CGI dei cocodrilli, degli alligatori, perdonatemi, che però vede anche l'utilizzo in qualche scena di alligatori veri, ma pochissimi. In realtà vedremo tantissimi alligatori in CGI fatti in un modo meraviglioso, cioè sono proprio... sono realistici all'inverosibile, cioè qualcosa di pazzesco e anche se gli alligatori sono stati realizzati in modo iperrealistico si è cercato comunque di enfatizzare alcune parti del corpo, quindi ingrandendo alcune parti del corpo, ma sempre, questo è detto anche del regista, cercando di non farli sembrare troppo finti, cioè troppo degli animali che non esistono. Quindi mi è piaciuto comunque, mi è piaciuta la volontà di enfatizzare delle cose, ma cercando di stare sotto una soglia per cui non sembri finto, che non sembri appunto un cocodrillo finto, perché sennò a quel punto non può far paura. molto belli anche le movenze, i comportamenti, eccetera, anche se, come dicevo all'inizio della live, che ne abbiamo parlato un secondo, scusate, il... come dire, il... il cinema ha bisogno di animali che non siano... che non abbiano il carattere e il comportamento di animali per fare un film horror, per fare qualcosa che... che seguono una trama, no? Per cui, in questo senso, posso già dirvi che, secondo me, tutto il comportamento degli alligatori è come è giusto che sia, non è una critica, eh? Però se uno vuol dire, vada, sì, figo, gli alligatori sono realistici e si comportano in modo realistico, no, chiaramente. Perché? Perché comunque siamo in una situazione in cui c'è un allagamento e delle correnti fortissime e non penso che gli animali, in una situazione del genere, per quanto sembrino cattivi, no? I coccodrilli e gli alligatori, si ostinino, come se ce l'avessero proprio su con qualcuno, a perseguitare una preda quando, insomma, siamo in una situazione in cui loro stessi vengono trascinati dalla corrente, eccetera. Quindi, diciamo che è un po' tirata per i capelli, questa cosa, ma è giusto che sia così? Sono un po' troppo villain, ecco. Però è giusto che siano così, quindi è solo per, un po' per rispondere alla questione si comportano in modo credibile. No, inizialmente non mi era piaciuto il film, cioè non è che non mi era piaciuto. Lo consideravo un buon film di intrattenimento. Devo dire che rivederlo, vabbè, in 4K, si ed è meglio, è più figo, è tutto quello che vuoi. Rivedendolo, quello che ho apprezzato è veramente l'impiego di una serie di elementi pazzeschi, come le scenografie, e chiaramente molte scene sono state ricreate dentro delle piscine enormi. Non avete idea di quanto sono grandi queste piscine, perché nelle piscine di Crowell ci sono intere case, hanno creato proprio pezzi di villaggio con dentro le case, con dentro le macchine delle piscine ribaltate e tutte le scenografie varie e mi sembra, adesso ho visto quasi tutti gli extra, ma uno degli extra l'avevo già visto nell'altra edizione, che era l'edizione Blu-ray, mi sembra che addirittura scaldino l'acqua, perché stare dentro l'acqua poi dopo 6 ore, anche con la muta, dopo un po' congeli, e quindi veramente un lavoro pazzesco di scenografie, di effetti speciali, infatti tra l'altro anche bene ci sono chiaramente effetti speciali in CGI ed effetti speciali prostetici fatti benissimo, delle cose meravigliose. Ci sono appunto i coccodrilli in CGI fatti meravigliosamente, dei coccodrilli veri che in realtà saranno stati usati per delle scene, diciamo, non di attacco, ma delle scene semplicemente di nuoto, o di camminate, per far vedere dei coccodrilli, e poi c'è bellissimo un burrattino, una marionetta di testa di coccodrillo più un pezzo di busto, chiaramente pilotabile con le mani dall'interno, che è stata usata per i morsi, le scene ravvicinate con gli attori. Io credo che sia una scelta molto bella e interessante, perché nel film vedremo delle situazioni in cui l'attore viene morso, ma anche tenuto, no? Tenuto fermo, e quindi secondo me è importante anche per l'attore cazzo vedere questa testa, questo braccio, per sapere anche bene dove guardare e come muoversi. Quindi probabilmente alcune scene come appunto una scena dove viene mosso il braccio alla protagonista, se l'avesse dovuto fare guardando il vuoto con una cosa verde sul braccio probabilmente sarebbe stato problematico. Quindi mi fa piacere che in questo film siano stati usati svariate tecniche mescolate e amalgamate insieme abbastanza bene. Anche se è tutto molto bello, anche se è tutto molto elaborato e c'è tanta CGI e c'è tanta scenografia, è tutto estremamente figo e non voglio dire che non sia così però a volte è anche artificioso. Alla fine è artificioso però era impossibile che non lo fosse in alcune situazioni perché vi garantisco che superata la prima mezz'ora poi è tutto cioè è un penso non so quanto possa costare un feed del genere perché ci sono tre miliardi di set elaboratissimi nell'acqua cioè è una roba devastante una roba devastante quindi non può non essere artificioso però alla fine ha anche un po' di compositing che dà un po' l'idea di artificiosità sia nei paesaggi negli sfondi proprio nel panorama che in alcune situazioni qualcosa un po' fa storcere il naso come per esempio questa illuminazione dell'acqua a volte un po' troppo sparata in alcuni casi sembra proprio ci sia una luce sotto ok può anche esserci che ci sia della luce che riflette sotto e risale sopra però lì sembra proprio che ci sia un cazzo di faretto come cazzo fa esserci un faretto sotto cioè va bene qualche scamotaggio però ecco secondo me è un film che vi trasmetterà proprio questa sensazione da una parte vedrete avrete la sensazione proprio di soddisfazione per la quantità di cose fighe messe in atto però poi ogni tanto dite ok però sembra un set questa cosa un po' non l'ho persa dalla prima impressione che ho avuto non l'ho persa però devo dire che rivedendolo ho detto sti cazzi cioè sti cazzi che lavoro che lavoro hanno fatto un grandissimo lavoro alla fine il risultato l'hanno portato a casa nel senso che l'importante è che durante il film tu non abbia troppo la sensazione che tutto sia finto e in questo film era difficilissimo far sì che non ci fosse perché c'è troppa roba c'è troppa roba è come se io facessi un film splatter pieno di colt cioè da 90 minuti di coltellate amputazioni è chiaro che più roba io metto e più sono costretto a sono sott'esame più spesso per quanto riguarda scenografie effetti speciali perché se io faccio un film e sono tanti film molto belli dove non succede un cazzo e poi c'è una sola scena gore fatta benissimo no? pensate a irreversibile per esempio o ci sono ci sono film così ecco se io faccio un film dove invece ci sono decine 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 di amputazioni che tagli coltelli sangue budella è chiaro che sono tutti piccoli esami da superare perché la credibilità viene rimessa in discussione in quel momento no? quindi il film è un po' così secondo me la visione è questa però insomma è stato interessante rivederlo e rivalutarlo almeno per quello che è lo sforzo e poi ecco un'altra cosa che non mi ricordavo è divertente alla fine perché è molto action è molto action ci sono tante situazioni diverse ve l'ho detto anche un po' prima tante tante situazioni in cui loro dovranno risolvere che loro dovranno risolvere quindi io penso che sia una cosa abbastanza carina è molto bello anche secondo me il personaggio di lei perché lei è spigolosa la protagonista è carina ma non è bellissima è un e riflette un po' anche il suo carattere perché lei è sì è una brava ragazza però è anche una ragazza dura una ragazza severa una ragazza un po' seria allo stesso tempo però ha due palle così ha veramente due palle così e lo dimostrerà poi nel film quindi mi piace come è disegnato il personaggio perché è credibile non è non è il personaggio che prima in un modo poi guarda caso diventa cioè no ci sta funziona allora all'interno poi dell'edizione che vi ho fatto vedere trovate degni di nota beh c'è un bel po' di roba c'è appunto un lungo backstage con le interviste ai protagonisti quelle classiche dove sono seduti sulla sedia e poi intermezzate da backstage e voiceover che racconta voiceover del regista che racconta un po' come hanno realizzato le scene ed è veramente figo perché vedete un film del genere come cazzo si fa a farlo è un film importante da quel punto di vista di budget di attrezzature tecnica e artigianato anche direi dentro c'è anche uno storyboard e di questo ve ne voglio parlare bene perché è interessante a livello cinematografico a livello di horror c'è uno storyboard animato significa non un vero e proprio cartone animato perché gli omini sono presi e trascinati però è fatto abbastanza bene per farvi capire come sarebbe andato c'è un inizio alternativo del film l'inizio alternativo del film ve lo spoilerò perché non me ne frega un cazzo fondamentalmente perché non andrete mai a vedervelo perché siete ignoranti animatic grazie Hiroshima praticamente è a colori con alcuni personaggi ben disegnati non schizzi ben disegnati con i loro contorni in nero colorato e poi mossi con appunto gli elementi zoomati mossi spostati eccetera è molto horror è di un horror che non avete idea perché racconta praticamente l'inizio dell'alluvione e noi vediamo una famiglia madre padre bambini due bambini piccoli che attendono di proseguire in questa colonna di macchine ma a un certo punto l'acqua sommerge tutto e loro si ritrovano praticamente sul tetto della macchina perché non sanno più dove mettere i piedi e arrivano gli alligatori e circondano tutte le macchine circondano la macchina di questa famiglia poi cosa succede il padre viene mangiato divorato davanti a loro addirittura loro lo tengono per le braccia e lui gli vengono mangiate le gambe e poi viene divorato tutto e ammazzato poi c'è uno stacco passa del tempo e si vedono loro piangenti sull'auto che aspettano qualcosa dei soccorsi passa un elicottero e li ignora e a quel punto gli alligatori si fanno più audaci e li sbranano sbranano la mamma e i due bambini li sbranano li fanno fuori e si macchia tutto di rosso c'è una roba che ve lo dico solo a vederla in come dice appunto Hiroshima in animatic avevo i brividi veramente ero angosciatissimi ho detto la poveri e me la sono immaginata girata nel film cioè ovvio che i produttori hanno visto sta scena e hanno detto no qua no non hai capito cioè la gente si deve divertire e quindi non l'hanno fatta ma se fosse iniziato così poi come cazzo doveva andare avanti no dico io cioè perché veramente inizi con a mille proprio a mille cosa devi far succedere dopo per far emozionare lo spettatore comunque un inizio molto figo secondo me molto horror devastante all'interno trovate appunto questo le scene eliminate che non sono molto rilevanti in realtà un po' di spiegazioni sugli effetti prostetici le marionette quello è bellissimo e niente quindi l'edizione è figa mi viene da dire il destino ne approfitto parlando proprio di di questa edizione qua il destino dell'on video sappiamo che insomma la gente non compra i film per vederli ormai no prima magari si compravano anche per vederli ora si comprano li comprano sui collezionisti mi fa specie che per per Crow che non stiamo non stiamo parlando di che cazzo ne so Sam Raimi Carpenter per Crow si è stato fatto un'edizione 4k più blu-ray con 3000 cose dentro e un bel box rigido figo mi ha dato una suggestione su quello che potrebbe essere il futuro dell'on video cioè solo edizioni 4k così anche dei film minori anche di smile nel senso che a questo punto se la comprano i collezionisti e allora la vogliono bella però chiaramente i prezzi devono un po' scendere niente cosa vi posso dire non è un film di cui cioè è un film di cui si sono riuscito a parlarne un po' e se ne può parlare perché tecnicamente mette in campo tantissime cose però appunto a livello di storia non ha molto da dire ecco c'è una piccola pecca che lo rende un po' poco credibile che sono gli attacchi subiti dalla protagonista la protagonista subisce ben tre attacchi intendo tre morsi e non insomma una persona che si becca tre morsi una sul braccio una sulla spalla e una sulla gamba da un alligatore poi di quelle dimensioni con quei denti come minimo al di là della perdita di sangue come minimo dovrebbe essere coperto di sangue dovrebbe essere zuppo di sangue zuppo di sangue dovrebbe ormai non camminare praticamente insomma c'è un po' il problema che lei viene aggredita ma ti dà la percezione quasi di essere invincibile perché comunque dei morsi così non un po' ti fermano cazzo dai stiamo parlando di alligatori da tre metri e mezzo quindi solo questo è un po' la pecca su cui potevano cercare di quantomeno di renderla più insanguinata e renderla anche un po' più debilitata nella recitazione invece no cioè alla fine non è così quindi questa è forse l'unica pecca mi viene da dire che non ci sono tanti film sugli alligatori i cocodrilli horror che possano essere considerati fighi sono pochissimi quindi questo è sicuramente tra i migliori mi viene da dire che mi viene da dire